Ballando con le stelle 13, classifica della prima puntata di sabato 10 marzo su Rai 1 Chi è stato eliminato tra i concorrenti? Ballando con le stelle 2018, voti della giuria e tesoretto ai concorrenti nella prima puntata di sabato 10 marzo si esibiscono i 13 concorrenti, che vengono giudicati da Ghiermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Caroline Smith Al tredicesimo posto Eleonora Giorgi, a cui Mariotto dà zero, al dodicesimo Stefania Rocca, al decimo Nathalie Goethe e Akash, al nono Amedeo Minghi, all'ottavo Giaro Giarratana, al settimo Don Diamont, al 6 gradi Giovanni Ciacci, al quinto Massimiliano Morra, al quarto Cristina ICH, al terzo Francisco Porcella, al secondo Cesare Bocci, al primo Jessica Notaro, che conquista la giuria e fa commuovere Mariotto Il tesoretto del web di 5 punti va a Giaro che gli permette di andare al sesto posto ex a Cheuo con Ciacci Il tesoretto di 40 punti assegnato da Sandro Maier va all'infortunata, ha un problema alle costole, Stefania che diventa così prima Ballando con le stelle 2018, classifica dei concorrenti nella prima puntata di sabato 10 marzo dopo il televoto considerando i televoti la classifica cambia Le due coppie in coda sono quelle con la Giorgia Cash Ballando con le stelle 2018, eliminato della prima puntata di sabato 10 marzo nessuna copia al ballottaggio viene eliminata Dovrebbe essere una sorpresa per la Giorgia Cash, al punto che Paolo Belli lo comunica al pubblico senza farsi sentire da chi è in studio Ma Mariotto lo aveva già anticipato durante il talk precedente Chi perde la Giorgia, 28%, ha solo una penalità di 10 punti da scontare sabato prossimo